Francesco Monte replica a Cecilia, ho smesso di compiacere gli altri Francesco Monte come sta? Ecco cosa ha detto dopo le accuse della Rodriguez. Si torna a parlare ancora una volta di Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Poche ore fa la sorella di Belen Rodriguez è tornata a parlare dell'ex fidanzato dopo la loro rottura in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, dicendo che l'ex tronista di Uomini e Donne non è di certo una vittima. Cecilia ha subito voltato pagina iniziando una nuova relazione con Ignazio Moser. A quanto pare, dopo essere stato davvero male, anche Monte è pronto a lasciarsi il passato alle spalle. . In un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna ha detto di essere rinato. Ad oggi sta bene perché ha imparato a prendersi cura di se stesso e di fare ciò che gli va. . Francesco ha ribadito che è stata una delusione molto grande, ma avendo conosciuto il dolore vero a causa della morte della madre, riesce a dare il giusto peso alle cose. . Ad ogni modo ammette di essere una persona molto tesa e di pensare a troppe cose, proprio per questo spera di trovare un po' di pace. . . Cecilia contro Francesco Monte, il suo atteggiamento l'ha allontanata. . La storia tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte è definitivamente finita. . . L'ex biaffina pensa di meritare di essere felice con Ignazio Moser. Ha poi puntualizzato che anche l'ex fidanzato ha delle colpe. . I due litigavano spesso e lui dedicava troppo tempo al lavoro trascurandola, facendola di conseguenza allontanare. . .